Adesso, sempre in tema con il nostro spettacolo che ricordiamo è Rafficando la Carrà, che vuole rendere omaggio e tributo ad una star della vera televisione italiana, vedremo una coreografia degli allievi più piccoli della scuola di danza Butterfly su una marcetta orecchiabile, ma che musica maestro! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!